Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, proviamo a fare chiarezza. Prima di parlare del DL Energia vorrei tentare di fare un'introduzione generale sulla politica energetica per poi passare al provvedimento nello specifico. Intervengo in questa festa anche come responsabile dell'innovazione della mia forza politica perché, vedete, innovare significa occuparsi trasversalmente di tutti i settori produttivi nazionali, dalle energie alle start-up, al design, alla sicurezza delle reti, fino al rapporto tra tecnologia e uomo. Il conflitto russo-ucraino ha ulteriormente aggravato la già critica situazione di incertezza economica che ha caratterizzato gli ultimi mesi del 2021 a causa di un costante e vertiginoso aumento dei costi e dell'energia. Secondo un'indagine appena realizzata da Confapi, su una scala da 1 a 10, il costo dell'energia elettrica incide sull'utile ed esercizio tra 5 e 10 punti per il 29% delle aziende interpellate, mentre, colleghi, per il 25,8% inciderà tra l'11% e il 30%. Questo viene testimoniato ancora dall'ulteriore aumento dei costi dell'acciaio, un altro asset, una volta strategico, per l'Italia, di circa il 20% in meno di 10 giorni, l'irreperibilità di materiali come il bitume o il fermo della catena di approvvigionamento che sta, di fatto, paralizzando progressivamente i cantieri. Nessuna impresa, grande, media o piccola, può reggere un impatto così rapido e devastante. La situazione, colleghi, è ormai fuori controllo. I cantieri, le vetrerie, le aziende di ceramica, i teatri, i cinema stanno chiudendo e il PNRR, come denunciato anche da Giorgia Meloni, rischia di fallire. Del resto, colleghi, il contesto di guerra che stiamo vivendo determina tuttavia delle ripercussioni immediate ed attuali sulla sopravvivenza stessa del nostro sistema produttivo che rischia di non arrivare all'appuntamento col futuro se non pesantemente compromesso e messo in ginocchio. Non è immaginabile, infatti, che le imprese possano assorbire prezzi di borsa del mercato elettrico che sono arrivati a toccare, come sappiamo, i 388 euro a megawattora quando lo scorso anno il prezzo medio nazionale si attestava addirittura sui 60 euro a megawattora. Nel corso del 2021, pensate, il prezzo dell'energia elettrica e del gas in Italia sono aumentati del 400%, nel 2022 del 200%. Citando l'ISPI, che non è Fratelli d'Italia, il costo dell'energia per le imprese italiane potrebbe toccare i 37 miliardi di euro nel 2022, una cifra quasi cinque volte superiore rispetto al 2019 e in salita persino rispetto ai già elevati 21 miliardi del 2021. Per confronto, la bolletta per le imprese prevista per il 2022 sarebbe da sola superiore all'intero ammontare dei fondi destinati dal PNRR al Ministero della Transizione Ecologica, 34,9 miliardi di euro, come sappiamo. Se i prezzi dovessero rimanere a questi livelli, colleghi, la crescita del PIL italiano potrebbe essere dello 0,8 inferiore al previsto nel primo trimestre del 2022. Quasi un terzo, 500 mila, dei posti di lavoro nei settori più energivori sarebbero a rischio. Nel frattempo, invece, l'Europa ha deciso un quinto round di sanzioni sull'energia e altri settori dell'import-export con la Russia. Il carbone russo rappresenta oltre il 45% delle importazioni di combustibile solido nell'Unione Europea. Il mercato è in forte tensione, c'è grande domanda ed il prezzo è altissimo, come sappiamo. Senza pensare a famiglie e imprese rischiamo il tracollo. L'Europa importa infatti due tipi di carbone dalla Russia. Quello metallurgico, utilizzato per produrre l'acciaio e quello termico, utilizzato per la generazione di energia. Anche per questo, con Giorgio Meloni, abbiamo chiesto un fondo perequativo in un incontro direttamente col capo dello Stato Mattarella perché evidentemente il Presidente Draghi, il governo sedicente dei migliori, non ha tempo per ascoltare l'opposizione. L'Unione Europea, lo ricordo, dipende dalle importazioni di combustibili fossili, gas, petrolio e carbone per un fabbisogno energetico tra il 57% e il 60%. Negli ultimi anni la produzione interna di fonti energetiche rinnovabili è aumentata sensibilmente, ma il calo della produzione europea di carbone, lignite e gas, fa sì che l'Unione Europea continui a dipendere dall'importazione di gas, 90% del consumo, petrolio, 97% e carbon fossile, 70%. Nel 2021 la Russia ha fornito circa il 45% delle importazioni totali dell'Unione Europea. Gli altri grandi fornitori dell'Unione Europea sono stati la Norvegia per il 23%, l'Algeria per il 12%, gli Stati Uniti d'America per il 6% e il Qatar per il 5%. La Russia è anche il principale fornitore delle importazioni dell'Unione Europea di greggio, il 27%, seguita da Norvegia per l'8%, dal Kazakistan per l'8% e dagli Stati Uniti d'America per l'8%. Lo stesso discorso vale per il carbon fossile, 46%, seguita da Stati Uniti d'America per il 15% e Australia per il 13%. Per la prima volta l'Europa ha imposto sanzioni verso la Russia che riguardano l'energia e noi siamo stati ovviamente favorevoli a questo contrasto forte rispetto a quella che è stata una vera e propria invasione. Ma il settore è rilevantissimo per il sostentamento del regime di Vladimir Putin che si basa essenzialmente sulle vendite di idrocarburi all'estero e dunque stiamo finanziando, come è stato detto e denunciato da più parti, la guerra in Ucraina. E questo è il paradosso perfetto, colleghi, paradosso perfetto di una mancata visione di politica energetica degli ultimi vent'anni da quando esiste l'Unione Europea, da quando esiste l'Euro, intendevo. L'esitazione di Bruxelles si spiega con la profonda dipendenza energetica da Mosca per il carbone, il petrolio e soprattutto per il gas naturale. I consumi civili sono solo una parte dei consumi di gas. Dei 76 miliardi di metri cubi consumati in Italia nel 2021, il settore civile ha assorbito 33,3 miliardi di metri cubi, pari al 43% del totale, concentrati nei mesi da ottobre a marzo. La produzione termoelettrica 26 miliardi, 34% e l'industria 14 miliardi di metri cubi, 18,3%. È evidente quindi quale siano le priorità, ovviamente il civile e poi l'industria. Colleghi, un calo dei consumi industriali significa, come sappiamo, recessione economica. Con l'applicazione alla Russia delle sanzioni sul settore energetico, i prezzi salirebbero ulteriormente e verrebbero a mancare circa 1,8 miliardi di metri cubi di gas al mese. A quel punto il Governo dovrà decidere se riempire gli stoccaggi in vista dell'inverno o tagliare i consumi del comparto industriale, cosa che provocherebbe una grave recessione economica. Non si tratta, come ha detto, semplificando in maniera quasi puerile il Presidente Draghi, di scegliere tra il condizionatore e la pace. Si tratta di scegliere tra il futuro e il destino dell'industria italiana e la difesa delle nostre famiglie. Di fatto questa recessione economica è quello a cui stiamo già assistendo e che a marzo ha visto verificarsi un altro pesante calo dei consumi industriali di gas a segnalare la situazione drammatica in cui versa l'economia italiana. Dopo il meno 9,3 di febbraio, il mese di marzo ha fatto registrare un preoccupante meno 10,3. Nei 31 giorni appena terminati l'industria italiana ha consumato 1,18 miliardi di metri cubi di gas, circa 130 milioni di metri cubi in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Nel primo trimestre l'arretramento del consumo industriale rispetto allo stesso periodo del 2021 è dell'8,1%. Questi colleghi sono dati inquietanti perché non derivano da risparmio voluto ma da una necessaria flessione delle produzioni dovute appunto ai costi. Vedete, la scorsa settimana abbiamo tenuto una missione istituzionale in Lettonia con tutti i rappresentanti delle forze politiche, con incontri di alto livello con il governo lettone, come bilaterale di amicizia con i paesi baltici. Paesi baltici che stanno dando una risposta all'indipendenza del gas russo come la Lettonia che ha annunciato che rinuncerà al 100% della fornitura come la Lituania, scusate. La Lettonia starà progressivamente, farà la stessa cosa e lo stesso l'Estonia. Siamo stati in visita alla base di Adazi e la base militare NATO che è un vero e proprio modello di quella NATO europea che dovremmo andare a consolidare in tutte le altre basi e cioè una base fatta da interforze europee che in maniera autonoma sviluppino grazie a una politica estera finalmente europea e fino ad oggi non c'è stata, come abbiamo sempre denunciato, possa fare gli interessi e la difesa e la deterrenza proprio su quel confine baltico che oggi è il confine più preoccupante per quello che sta accadendo. Tanto è vero che l'operazione in quel contesto, a quel confine, si chiama Sentinella Baltica. Il motivo è evidente. Abbiamo espresso solidarietà ai nostri ragazzi, uno splendido contingente di 250 uomini che sono lì e rappresentano l'Italia, rappresentano quella nuce di esercito europeo interforze, non di un unico esercito ma di un coordinamento di interforze europeo che ora la NATO sembra intenzionata a costituire proprio sul confine baltico e che noi abbiamo sempre sostenuto dai tempi non sospetti prima ancora della crisi. Ma, ritornando al Parlamento, qualche mese fa il Copasir ha rilasciato un documento conclusivo su un'indagine conoscitiva proprio sulla transizione ecologica, anche qui anticipando, grazie al suo lavoro, anticipando poi quello che sarebbe accaduto. Il rapporto del Copasir, colleghi, parla di minacce asimmetriche anche nel mondo dell'energia che, come sappiamo, è uno strumento geopolitico. La tempesta dei prezzi energetici che da mesi scuote i mercati europei può colpire con particolare violenza il comparto italiano e avere ripercussioni sulla sicurezza. L'interconnessione del sistema di approvvigionamento europeo potrebbe provocare, in caso di spegnimento di una singola centrale, ad esempio per mancanza di carburante, una reazione a catena che colpirebbe tutti i Paesi membri. Basti pensare che la chiusura dei due reattori di EDF, la società francese che gestisce un parco elettronucleare di 56 reattori a fissione nucleare di uranio, il 10% della capacità nucleare francese, assieme alla previsione del forte calo delle temperature, ha inciso fortemente sull'aumento dei prezzi europei dell'elettricità. Uno degli obiettivi principali da raggiungere, quindi, si legge, è la diversificazione delle fonti energetiche e delle sedi di approvvigionamento per superare, o quantomeno attenuare, lo stato di dipendenza rispetto ad altri Paesi. Che significa, tradotto, chiudere la stalla quando i buoi ormai sono fuggiti. Perché questo è successo per mancanza di una seria strategica, politica, energetica, unitaria dell'Unione Europea. Oggi l'Italia è particolarmente dipendente dalla Russia per le forniture di gas naturale. E mi permetto un altro inciso. L'Italia nel 1991 era arrivata a produrre 21 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Una cifra che non si discosta di molto dai 28,4 miliardi acquistati oggi dalla Russia. E quindi eravamo quasi alla soglia di autonomia del gas importato dalla Russia. Sui 76,1 miliardo di metano consumati ogni anno nel nostro Paese. Che, sempre secondo le stime degli esperti risalenti a una decina di anni fa, potrebbe avere nel sottosuolo 350 miliardi di metri cubi di gas. Saranno sì resi più produttivi i giacimenti del canale di Sicilia nelle Marche, ma tuttora i grandi giacimenti dell'Adriatico sono bloccati. Cingolani ha infatti detto espressamente che l'aumento della produzione nazionale di gas dovrà derivare dai pozzi già attivi o comunque esistenti, senza l'apertura dei nuovi giacimenti. Più estrazione significa nuovi posti di lavoro e migliori rendite per lo Stato, magari proprio da reinvestire nella transizione ecologica. Questo lo farebbe una nazione che potesse avere una visione strategica geopolitica dell'energia. Gianni Rosa, bravo ex assessore all'ambiente lucano, con l'accordo Eni in Valdagri ha fatto maturare oltre 170 milioni di euro al 31 dicembre 2021 in favore della Basilicata a titoli di compensazioni ambientali di cui 91 milioni per il solo gas. Se andate a vedere questo risultato vuol dire un incentivo ovviamente delle risorse energetiche locali e queste quote e questi milioni di euro equivalgono, pensate un po', ai 20 anni precedenti, delle gestioni precedenti. Il Copasir poi è inoltre concentrato in particolare sull'idroelettrico, definito uno degli ambiti nei quali il nostro Paese presenta un notevole vantaggio competitivo e non c'è bisogno di spiegarlo a nessuno il motivo per cui questo potrebbe esserlo. L'idroelettrico è una fonte energetica rinnovabile, quindi coerente con il percorso di transizione ecologica. Inoltre, colleghi, a differenza delle rinnovabili, dalla produzione intermittente come l'eolico e il solare, l'idroelettrico è modulabile e può garantire dei livelli di stoccaggio attraverso i pompaggi, andando così a migliorare la stabilità della rete elettrica. L'attuale disciplina legislativa italiana nel settore dell'idroelettrico, afferma il Copasir, mette a rischio, colleghi, il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale, consentendo la partecipazione alle nuove gare di società estere con un conseguente indebolimento della posizione competitiva del sistema industriale italiano. Come vedete, cito documenti ufficiali del Copasir, non è propaganda. Stiamo facendo di tutto per un momento di crisi emergenziale come questa per far fare shopping alle multinazionali dell'energia, anche europee. In Italia esiste in effetti una filiera locale associata a questa energia. Nel caso di altre fonti rinnovabili, come l'eolico e il solare, invece, la catena del valore è dominata dalla Cina, come sappiamo. È nettamente la prima produttrice di pannelli e turbine, oltre a controllare gli approvvigionamenti dei materiali di base come terre rare. Su questo noi sappiamo che la posizione Fratelli Italia è sì a favore dei rinnovabili, ma anche a tutela del paesaggio, soprattutto sull'eolico, sui parchi eolici che in alcune regioni meravigliose d'Italia hanno devastato il paesaggio, per cui ci sono formule nuove, come in Nord Europa, per fare l'eolico in aree industriali dismesse o in alto mare e su cui in Italia non è stata fatta nessuna valutazione, perché era più semplice distruggere il paesaggio. E, diciamo, con malizia forse l'interesse di una certa forza politica di maggioranza rispetto a questo Mite, questo Ministero di Transizione Ecologica, che sembrava essere il motivo di possibile non entrata di una nota forza politica di maggioranza all'interno del Governo, insomma, sul fatto che la filiera sia tutta dominata dalla Cina, pone degli inquietanti interrogativi che rimbalzano in questi banchi. Il dibattito pubblico, poi, si occupa dei temi della transizione ecologica sul piano della concorrenza e dell'economia, ma negare le complessità internazionali rischia di confinare l'Italia nella dipendenza energetica e tecnologica. Cito Kissinger, che ebbe a dire «Chi controlla l'energia può controllare tutti i continenti». Molte posizioni di Kissinger non le ho mai condivise, ma questa analisi è un'analisi assolutamente lapalissiana. Il provvedimento che oggi inizia il proprio itere in aula è arrivato alla Camera, composto da più di 40 articoli, nell'ennesima prassi governativa della decretazione d'urgenza, abusata a più non posso, anche in provvedimenti omnibus come questi, che meriterebbero un esame molto più approfondito, che però non ci è permesso. Mi richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 244 del 2016 che aveva coniato l'espressione «provvedimento contenuto plurimo» per evidenziare l'insistita eterogenità di questo decreto. Cinque titoli, tutti diversi, eterogenità accentuata nel percorso emendativo. La nostra azione emendativa come forza parlamentare è stata posta verso il sostegno alle filiere produttive nazionali colpite dal caro Bolletta. E come è stato detto dalla collega Lucaselli, ogni volta ci dite ce ne occuperemo la prossima volta. Il conflitto in Ucraina poi sta provocando lutti e devastazioni come purtroppo è davanti ai nostri occhi ogni giorno. E noi siamo, ovviamente, e dal primo momento con il popolo ucraino e con chi difende eroicamente le proprie case contro l'aggressore russo. Ma la guerra ha innescato una reazione a catena pericolosa e preoccupante per quanto riguarda l'energia. Sempre perché in geopolitica c'è sempre un prima. E il prima è che l'Unione Europea era un gigante commerciale ma un nano geopolitico. I dati sono noti. Quasi la metà del gas consumato in Italia arriva dalla Russia. Nel 2022 i prezzi di elettricità e gas sono aumentati del 200%. L'incremento dell'energia in soli due anni è cresciuto del 1.500%. Vale a dire che oggi ci costa 15 volte in più, colleghi. Ma se in Francia e in Germania la produzione interna è addirittura aumentata, seppur di pochi punti percentuali, in Italia si riduce sempre di più e molte industrie, quelle energivole in primis, rischiano di chiudere i battenti. A questo si aggiunge il problema delle materie prime. Nel distretto ceramico di Sassuolo, ad esempio, le aziende iniziano a spegnere i forni, visto che dalla Ucraina arrivava l'80% dell'argilla e il 12% del caulino importati in UE. Idem per le aziende della gomma. Gli stabilimenti Michelin di Cuneo e Alessandria, come quelli nel resto dell'Europa, hanno fermato la produzione per la difficoltà di approviginamento del nero fumo carbon black, pigmento derivato dal petrolio che arriva dalla Russia, usato a livello mondiale principalmente per la produzione di pneumatici. Nel percorso di modifica parlamentare ho portato il focus sui temi della mobilità sostenibile. Ieri si è chiusa la Formula E, manifestazione sportiva all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione. Un'occasione, certo, per valorizzare lo splendido quartiere EUR nel mondo e tutta Roma e una politica per la sostenibilità. Un grande evento internazionale che fu deciso dal centrodestra in Campidoglio e poi divenuto realtà solo dopo ben due amministrazioni, dieci anni dopo. Questo è il paradigma della lentezza sulla strategia sostenibile dell'Italia. In particolare, ho presentato un emendamento condiviso con altri gruppi parlamentari per l'estensione del fondo della transizione automotive del MISE, per lo sviluppo del settore verso forme più innovative e sostenibili. L'emendamento proponeva di ricomprendere fra gli interventi finanziati dal fondo anche misure agevolative per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. In tal senso, colleghi, per capirci, la proposta avrebbe aiutato ad accelerare la transizione verso la mobilità elettrica, in particolar modo nei contesti urbani, sostenendo contestualmente la diffusione delle infrastrutture di ricarica. Emendamento presentato trasversalmente, tenuto in piedi solo da Fra Fratelli d'Italia e ritirato da tutte le altre forze di maggioranza. Anche in questo caso ce ne occuperemo in un altro provvedimento. Notevoli, infatti, sono le difficoltà dei consumatori. Ad esempio, se facciamo l'esempio sulla densità delle stazioni di ricarica, a Roma è di 0,07 per chilometro quadrato, inferiore a Milano, che è pari a 0,11 per chilometro quadrato, mentre nella città metropolitana di Parigi siamo a 7,8 per chilometro quadrato. Colleghi, bisogna rendere più agevole la mobilità sostenibile investendo fortemente sull'offerta di infrastrutture, sbloccando la complessità burocratica e l'endemica mancanza di fondi nelle casse comunali, anche tramite partenariati pubblico-privati, dalla fase progettuale a quella di raccolta di finanziamenti. La domanda, già importante, va sostenuta tramite accordi con gli operatori per accelerare la crescita della distribuzione di energia attraverso le colonnine. Ce ne sono, ad esempio, a Roma, centinaia di ACEA bloccate per burocrazia. L'emendamento, purtroppo, è stato respinto, come vi raccontavo, in sede di Commissione. Così come è stato non votato un emendamento condiviso con la quasi totalità dei gruppi per snellire le procedure sull'area idonea ed evitare lo stallo amministrativo per interventi su fonti rinnovabili già realizzate in area con vincolo paesaggistico. Ovvero, laddove c'è già un impianto che è obsoleto e deve essere aggiornato, che ha già avuto il superamento del vincolo paesaggistico e l'approvazione, non si capisce per quale ragione, invece di concedergli semplicemente il rinnovamento degli stessi impianti con gli stessi vincoli devono rifare da capo tutta la pratica alla faccia dell'innovazione. E anche qui, tra i 160 emendamenti accantonati e poi bocciati di cui avete fatto strage, questo si era salvato, ma poi ovviamente per questioni procedurali non è stato possibile votarlo, ma anche qui noi abbiamo mantenuto la segnalazione di questo emendamento perché riteniamo una logica di buonsenso nell'ambito della semplificazione, tutelare il paesaggio ma semplificare almeno gli impianti già esistenti. Infine, colleghi, è stato nella formazione dell'atto approvato un emendamento condiviso con la maggioranza per garantire una maggiore flessibilità temporale nell'uso dei combustibili alternativi, mitigando l'impatto del caro energie per le imprese del cemento, sempre perché Fratelli d'Italia è a fianco delle imprese, soprattutto nella filiera produttiva essenziale. Si introducono così norme più snelle per i combustibili secondari con un doppio vantaggio, aiuto al comparto e vantaggio per l'ambiente nel segno dell'innovazione. La nuova previsione contribuisce a ridurre le emissioni di ossidi di azoto abbattuti dall'industria con soluzioni ammoniacali di sempre più difficile reperimento e determinano una riduzione delle emissioni di CO2 grazie al contenuto di biomassa in essi presente. Quindi un'iniziativa a favore della sostenibilità nella produzione industriale. Un ultimo inciso. Basta avvalguardato l'obiettivo costituzionale della libertà di stampa. Gli identici emendamenti dei colleghi Bressa e Giacobbe al DL Concorrenza sulle tirature regionali rischiano di compromettere la legalità della diffusione della Nazione in Toscana, del centro in Abruzzo, dell'Unione Sarda in Sardegna, del mattino in Campania, della stampa in Piemonte e altre testate storiche. Lo stesso per le contribuzioni dirette per l'editoria dove sempre Bressa e Giacobbe sono intervenuti. Ci chiediamo a che titolo, visto che stiamo parlando di editoria e visto che la filiera editoriale è in ginocchio e invece di aiutarla proprio sull'energia, sulla produzione, sulla defiscalizzazione, voi che fate? Presentate emendamenti di maggioranza per colpire queste filiere. Esprimiamo al Presidente Ripser della FIEG tutta la nostra solidarietà perché Fratelli d'Italia è sempre stata e sarà sempre in prima fila per l'editoria nazionale. Non solo vengono promossi emendamenti estranei come questi rispetto all'oggetto del provvedimento, intervengono su una materia in corso di svolgimento, ma si riferiscono ad un unico soggetto di duono, il quotidiano Dolomiten, contravvenendo alla necessità costituzionale anche delle tutele delle minoranze linguistiche che sempre andate sbandierando. Colleghi, sul paradigma dell'innovazione va costruita la nostra politica energetica nella meridiana dell'interesse nazionale. La Emrod sta costruendo, pensate un po', delle reti wireless per elettricità come già ideò, progettò in maniera visionaria Nikola Tesla, col suo sogno preveggente. La dimostrazione è che bisogna investire nell'innovazione e bisogna seguire quelle che sono le visioni di chi anticipa, come fece Tesla, queste innovazioni. Non possiamo rimanere succubi dei movimenti nimbi, di chi dice no a tutto, anche in questa maggioranza. Concludo, colleghi, citando Carlo Rubbia, che certo non è Fratelli d'Italia. Il sole non è soggetto ai monopoli e non paga la bolletta. Mi creda, questa è una grande opportunità per il nostro Paese. Se non lo faremo noi, molto presto lo faranno gli americani, come è accaduto del resto per il computer vent'anni fa. Grazie.